Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube, andiamo a vedere insieme questo video, seguitemi! Bene, avevo queste farine da smaltire, come vedete, dei sacchetti da vuotare e quindi ho fatto un miscuglio con queste farine, naturalmente voi se volete potete anche cambiare, però ecco ho messo il cruschello, qui c'è anche la tipo 2, una rimanenza di tipo 2, poi ho messo la 1 macinata a pietra e un po' di zero. Ok, ci metto un cucchiaio di anice che dà quel profumo pasquale a questo pane, il mio licoli che avevo rinfrescato all'incirca 4 ore fa e procedo. Mi sciolgo il licoli, che è già liquido, nemmeno servirebbe, però ho messo un po' d'acqua e lo appoggio, lo faccio cadere nella planetaria, ho messo l'acqua soltanto per non farla attaccare sotto, praticamente. In questo caso non farò autolisi. Alcune di voi mi chiedono perché fare l'autolisi. L'autolisi aiuta tantissimo la lievitazione, lo sviluppo del pane, però non necessariamente bisogna sempre fare autolisi, magari allunghiamo un pochino, come farò in questo caso i tempi della lievitazione e otterremo la stessa cosa. Bene, ho cominciato a versare le farine e mano a mano aggiungo l'acqua. Ecco qua ho messo tutta la farina, aggiungo ancora acqua, l'acqua ne lascio un pochino che poi metterò piano piano, così valuto anche se serve tutta o se aggiungere altra acqua. Ne ho preparata 340, anzi 340, vediamo se serve tutta. Continuo a girare, mi domandate spesso a che velocità, io all'inizio giro piano come vedete, 1, poi aumento a 2, qui aggiungo il sale, io metto sempre poco sale, un cucchiaino di sale, poi aumento un pochino a 3, ma massimo 4, non serve girare più di tanto. Metto anche i semi di finocchio e faccio girare ancora. Quindi il tempo complessivo presso a poco non dovrebbe superare i 15 minuti di questa incordatura, anche perché adesso faremo le pieghe in ciotola e quindi l'impasto si rafforza. Ok, ho messo l'impasto dentro una ciotola che ho appena oliato ed ora farò il primo giro di pieghe. Ok, io vi ho detto questo dell'incordatura perché mi capita di leggere delle volte, di vedere sul gruppo di cui faccio parte, che addirittura si fa cercare il velo per l'incordatura del pane. Io questo velo sul pane potrei anche sbagliare, ma non l'ho mai fatto, non sono mai andata a vedere, che se vado a vedere poi c'è, ma non si può stare un'ora a star lì per cercare di far venire questo velo, perché si rischia poi di rompere la maglia glutinica. Come vedete l'impasto è bello anche se ho girato non molto. Quindi faccio quest'altro giro di pieghe e poi vado a coprire due giri ma anche tre, anche tre giri. Poi si copre, si copre la ciotola con la pellicola, con un coperchio come volete e si lascia a lievitare. Naturalmente a temperatura ambiente, a meno che non si vuole fare un passaggio in frigo per altri motivi, però ecco nel mio caso l'ho lasciato a temperatura ambiente, diciamo che l'ho lasciato intorno alle 4-5 ore, eccolo qua. Qui ho fatto già un giro di pieghe, adesso vi farò vedere il secondo giro di pieghe, l'ho coperto, tra un giro e l'altro copro con la ciotola e faccio passare almeno mezz'ora, quindi almeno mezz'ora può stare anche 40 minuti, 45. Ok, allargo piano piano, ho messo appena un pochino di farina sotto, proprio non far attaccare. Come vedete l'impasto è molto bello, molto bello elastico e bolloso, vedete? Anche se l'idratazione non era altissima, guardate che bella bolla, adesso che facciamo? Dobbiamo piegare, magari non spingo tanto, però devo chiudere, almeno due giri di pieghe li devo fare, se ne possono fare anche tre, però quando vedete che l'impasto è così bello, forse l'ho ottenuto troppe ore, perché è stato cinque ore, perché poi in base alle esigenze i tempi poi li allunghiamo a nostro piacimento. Vabbè, bene o male, ho rifatto queste pieghe, ora copro di nuovo con la ciotola e lascio ancora riposare. Bene, è passato il tempo, ora lo allargo per andare a formare questo filone. Metto un pochino di farina e la bolla sta sempre qua, eccola qua, vedete? Cercherò di non romperla e di arrotolare il pane, però sarà un po' difficile non romperla, sicuramente ci verrà un bel bucone in quel punto, la voglio lasciare però. Arrotolo così, piego e poi arrotolo, fino a formare un bel filone. Intanto che chiudo, volevo dirvi amici che io so anche su Instagram, quindi se volete potete anche seguirmi là, ma che bella bolla, adesso lo devo girare per allungarlo un pochino, molto simpatica questa bolla, quindi dicevo se volete mi potete seguire anche su Instagram, sotto i video mi potete fare domande. Quello che vi chiedo di non chiedermi l'amicizia su Facebook, perché il mio profilo è privato, non ho un profilo, l'ho già detto in un altro video, non ho un profilo associato a YouTube, quindi non posso dare l'amicizia a tutti gli iscritti naturalmente. Bene, appoggio il filone dentro il cestino spolverato di semola, ed ora io con i miei tempi sono arrivata alla sera, quindi non posso aspettare adesso le 3-4 ore che ci vorranno per far lievitare questo filone ancora, quindi cosa faccio? Lo copro, lo chiudo con una busta, con un sacchetto di plastica, trasparente o come volete, e lo appoggio in frigo fino a domani mattina. Ed eccolo qua la mattina dopo, l'ho tirato fuori, l'ho tenuto a temperato ambiente almeno un'ora, ho acceso il forno che ho portato a temperatura, dentro ci ho messo un pentolino, spolverizzo con la semola e poi faccio un taglio. Per la cottura ci vorrà presto a poco 50 minuti, anche un'ora dipende molto dai vostri forni, vi metto qui la descrizione, io abbasso dopo una ventina di minuti ma anche mezz'ora e tolgo il pentolino. All'inizio ho anche spruzzato un po' di vapore con lo spruzzino, come vedete non è che sia aperto più di tanto, però va bene così, è bellissimo, guardate, croccante, lo lascio raffreddare prima di tagliarlo e vediamo ora com'è all'interno. Beh che dire ragazzi, è bellissimo, come vedete la bolla, quello è il punto dove c'era la bolla, vedete, c'è un bel bucone, magari dovevo spingerla un pochino ma va bene così, sicuramente non posso metterci la nutella sopra. Bene amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video, ciao!